Ciao, a me è venuta voglia di leggere l'Uovo del Sole e una fiaba svedese di Elsa Beskov. Sai dove sta la Svezia? È un paese freddo che sta in alto nell'Europa. È un libro questo che ho preso nella biblioteca del mio paese. C'era una volta una piccola elfa che abitava all'interno di un albero cavo, nel mezzo del bosco. A Ilfina piaceva tantissimo ballare. In primavera danzava Benvenuto Amato Sole, in autunno Volteggiate Foglie Dorate e in inverno invece ballava Cadi Biancaneve, fino a quando non era così stanca da tornare nel suo albero e addormentarsi profondamente. Ma d'estate c'erano così tante cose divertenti da scoprire nel bosco che Ilfina aveva meno tempo per danzare. Era molto amica degli uccellini. Se le capitava di trovare nel muschio un piccolo uovo caduto dal nido, si arrampicava subito per riportarlo a mamma uccellino. È per questo che gli uccellini le volevano bene. E quando la vedevano, cinguettavano le loro melodie più belle. Un giorno, mentre stava esplorando il bosco, Ilfina si imbatté in una cosa grande, rotonda e arancione, posata sul muschio. Oi, che uovo enorme, pensò. Da dove sarà arrivato? Alzando lo sguardo verso il cielo, vide proprio sopra la sua testa una fessura luminosa tra le nuvole. Ho capito, disse fra se e se. Il povero sole ha perso il suo uovo e non riesce più a trovarlo per via delle nuvole che gli coprono la vista. E così Ilfina partì di corsa per andare a raccontare la sua scoperta all'amico Pignetto. Fare dispetti era il passatempo preferito da Pignetti. Stava sbagliato a pancia in giù, sopra un ramo, e appena vi delfina le tirò una pigna, facendola cadere. Sei proprio cattivo, disse lei risentita. Se lo fai di nuovo, vado subito a dirlo a radice curva. Il vecchio radice curva era l'ognomo guardiano del bosco, ed era l'unico di cui Pignetto avesse timore. E da vigliacchi fare la spia? E da vigliacchi fare la spia? Le rispose gridando Pignetto. Sì, lo so, e magari poi non ci vado, ma non ti rivelerò nemmeno il mio segreto. Chi la fa l'aspetti? Ilfina scappò via di corsa e Pignetto saltò, rapido, giù dall'albero a seguirla. Nonostante il rivieto di radice curva di bucare le cortecce, portò con sé una spina appuntita e una cannuccia d'erba per poter offrire del succo di betulla fresco a Ilfina e fare pace. Ilfina si precipitò dalla rana felice che viveva sulla sponda dello stagno. Si chiamava così perché rideva per qualsiasi cosa e gestiva anche un piccolo bistrò con lo stesso nome, dalla rana felice. Quando arrivò correndo trovò una lumaca, una lucertola che stavano pranzando. E anche l'amica della rana felice, la rana triste, aspettava di essere servita. «Allora, cosa ti porto oggi, Ilfina? Uova fresche di coregone bianco o alghe tritate?» chiese gentilmente la rana felice. «O preferisci forse dei semi di piantaggine?» «No, grazie, sono pienissima», rispose. «Stamattina ho mangiato un'intera foglia di acetosella, ma devo raccontarvi una grande, grandissima novità. Non ci crederete mai, il sole ha fatto un uovo che è caduto in mezzo al bosco». La rana felice trovò questa notizia così hilarante che cominciò subito a ridere e rise talmente tanto che sarebbe soffocata se la rana triste non l'avesse aiutata dandole dei colpetti sulla schiena. Questo qui è il cartello del bistrò della rana e c'è scritto «Dalla rana felice, avviso, ai clienti è vietato mangiarsi a vicenda». Perché se c'è una mosca che vuole andare a bere un po' di succo, quella lucerzola lì se la mangia subito, o anche le rane. Ma Ilfina non si diede per vinta e decise di portare tutti a vedere l'uovo del sole. Intanto anche Pignetto raggiunse il gruppo insieme al suo amico Scoiattolo erano tutti molto incuriositi dall'uovo e rimasero tutti altrettanto stupiti quando lo videro. «Pensate se si schiudesse! Potremmo avere un sole tutto nostro che splende! Sempre qui nel bosco!» disse l'elfa. «Uh, speriamo proprio di no!» disse la civetta. Eccola lì, tra i rami dell'abete, spalancando gli occhi. «Altrimenti io dovrei traslocare!» «Eh sì, perché la civetta vive sempre al buio!» «Deve essere caldissimo all'interno!» disse Pignetto. «Lo sapete, no? Che il sole ha un grande fuoco dentro di sé!» «Che cosa succede qui?» chiese il vecchio Radice Curva, arrivando a grandi passi sostenendosi col suo bastone. «C'è un uovo del sole!» gridò Pignetto. «Uh, uh! Tra poco il bosco prenderà fuoco!» bubolò la civetta. «Dobbiamo evitarlo a tutti i costi!» replicò Radice Curva. «E' meglio farlo schiù, schiù, schiù!» cominciò a dire la rana felice. Voleva dire sarebbe meglio farlo schiudere nello stagno, ma mentre lo diceva pensò a quanto avrebbe crepitato l'uovo del sole a contatto con l'acqua e iniziò a ridere a più non posso. «Non c'è niente da ridere!» disse severamente Radice Curva. «Tiriamoci su le maniche e facciamo rotolare l'uovo fino all'acqua». «Ma il guscio non è per niente caldo!» disse allora la lucertola annusandolo con cautela. «Evviva! Non è un uovo del sole, è un pallone!» esclamò Pignetto tirandogli un calcio. «Non ti permetto di prendere a calcio il mio uovo! Potresti fargli male!» lo rimproverò il Fina. Ma Radice Curva aveva già chiappato Pignetto per un orecchio. «Se tocchi l'uovo un'altra volta dovrai fare i conti con me!» Proprio in quell'istante lo scoiattolo diede un morso al guscio dell'uovo staccandone un pezzo e si arrampicò sull'albero. «Per dindirindina!» disse sputando il pezzetto appena preso. «È amarissimo!» «Lasciate stare il mio uovo del sole!» «Lasciatelo stare!» disse l'elfa disperata. Là sentì anche il fringuello che arrivò subito. «Ascoltatemi, cari, questo non è un uovo del sole!» disse il fringuello. «È una specie di frutto del sole, chiamato arancia. Ne ho viste a centinaia sugli alberi laggiù nella valle di sole dove trascorro l'inverno. Stanno strette l'una accanto all'altra, appese ai rami, proprio come le pigne sugli alberi, e al loro interno c'è un succo molto buono!» «Hanno del succo dentro!» esclamò Pignetto, e men che non si dica, si precipitò dietro la sfera arancione, ne bucò la buccia con la spina appuntita, e infilata la cannuccia d'erba, iniziò subito a succhiare. «Mmm, che buono!» disse schioccando la lingua. «Non ho mai assaggiato nulla di così delizioso!» «Cosa hai fatto?» invira, dice Curva. Ma Pignetto si affrettò a fargli assaggiare il succo, e si procurò veloce delle altre cannucce per il resto del gruppo. In un baleno si ritrovarono tutti attorno alla sfera a succhiarne il succo, sclamando «Che bontà!» Solo la rana felice non riuscì a berne tanto, perché Pignetto le fece il solletico, e il succo le andò per traverso. Ma quando riprese il fiato disse «Senti un po' il fina, se mi lasci portare questa botte di succo al mio bistro, ti offro cibo gratis per un anno!» Fu proprio in quel momento che arrivò la grande cornacchia, golosa, sbattendo le ali e gracchiando fece scappare via tutti, poi si tuffò in picchiata, ferrò l'arancia, tagliartiglie e volò via verso il nido. I suoi piccoli spalancarono il becco in attesa, ma la cornacchia era talmente avida che si inchiottì l'arancia in un sol boccone. L'arancia però le rimase bloccata in gola e rischiò di soffocarla. Le venne così tanto male alla gola? Da dover andare in giro tutta l'estate col collo fasciato e non poté mai più gracchiare, giusto contappasso per la cornacchia golosa. Elfina scompiò in lacrime vedendo la cornacchia che portava via il suo frutto del sole. «Non piangere, piccola», disse il tordo. «Se vuoi in autunno potrai venire con me nella valle del sole, là dove sugli alberi abbondano i frutti del sole. Sei così leggera che potrai stare a cavalcioni sulla mia schiena». Non appena l'elfa ascoltò queste parole si illuminò di felicità e iniziò a volteggiare per tutto il bosco cantando. «Andrò nella valle del sole, andrò nella valle del sole!» Quando giusse l'autunno, Elfina partì con il tordo verso sud. La corse felice sotto i raggi del sole e presto diventò amica anche delle farfalle del posto, quasi quanto quelle del suo bosco. Se le veniva fame, le bastava fare un buchino con la cannuccia d'erba in uno dei grandi e dolci frutti del sole per berne a sazietà. Provò anche i limoni, ma li trovò troppo aspri. «Se durante l'inverno ti dovesse capitare di mangiare un'arancia un po' secca, non prendertela. Pensa che potrebbe essere proprio una delle arance da cui ha bevuto Elfina. Non la perdoneresti?» A Elfina piaceva moltissimo stare laggiù. Tuttavia ogni giorno diceva al sole «Caro sole, sbrigati a risplendere nel paese del nord. Così sarà presto primavera». In primavera, infatti, Elfina avrebbe dovuto tornare al bosco insieme al tordo. Lo aveva promesso, perché senza la sua danza benvenuto amato sole, gli anemoni non sarebbero potuti sbocciare. Inoltre, sia Radice Curva che Pignetto non vedevano l'ora di rivederla. Continuava ad adalzare gli occhi al cielo per scrutare se il tordo fosse in arrivo. E Radice Curva ogni volta diceva a Pignetto «Se è uno sciocco, lo dovresti sapere che il tordo non può tornare in pieno inverno». Ma anche Radice Curva guardava il cielo alla ricerca dell'elfa, nonostante vi fosse ancora neve sul terreno. Così, quando finalmente Elfina tornò dal suo viaggio, furono tutti talmente felici che il bosco intero si mise a fare le capriole. Ma ci credete se vi dico che tutto questo è accaduto perché l'estate scorsa un bambino di nome Giulio, venuto a cercare fragole selvatiche in mezzo al bosco, ha perduto dal suo cestino una grossa arancia. Fine.